Assessore, una modalità nuova di affrontare una crisi storica del territorio marchigiano? Sì, ha detto benissimo, nel senso che noi abbiamo ereditato l'area di crisi fabrianese e da otto anni si fa fatica a rinascere, a vedere un attimo la ricostruzione di questa area molto provata e quindi con questo ITI abbiamo cercato di unire i fondi europei, POR-FESR e POR-FSE, su una progettualità che viene prima della ricerca di unione dei fondi ed è questa. Stiamo cercando di uscire con un bando unico, con più misure, con più fondi che abbia però un'unità di intenti, che è quella di recepire il reale fabbisogno, formare il capitale umano necessario a questo fabbisogno, chiedere alle aziende in maniera singola o in maniera associata di partorire dei progetti che vadano da un lato verso il recupero di una tradizione che è comunque la nostra ed è fatta di piccole imprese che soffrono ma hanno una qualità di eccellenza. Nel secondo aspetto, passare attraverso una ricerca con un partenariato più aperto, dove ci sono anche le università, per andare verso l'innovazione. Questo si prova a fare ed è un progetto che si accosta ad altri che restano e fanno parte dei diversi assessorati.